All'indomani dell'incontro con la regione toscana è Don Massimo Biancalani con una conferenza stampa a spiegare l'accordo raggiunto per risolvere la situazione dei migranti a Vicofaro. Dopo l'ingiunzione dell'ASL per i rischi sanitari legati al sovraffollamento si parla di circa 150 persone, tre i punti discussi. Primo l'individuazione in termini proprio strettissimi di alcuni ambienti per collocare i ragazzi abbiamo qua in soprannumero, poi secondo l'organizzazione di una gestione degli stessi ragazzi, organizzazione che sarà appunto in mano nostra nel coordinamento con varie realtà del terzo settore. Il terzo punto è l'ampliamento in una progettualità più estesa che potrebbe, se vogliamo, poi nei prossimi mesi rivolgersi anche a altre aree della Toscana perché sappiamo che questo problema dei ragazzi migranti abbandonati sui territori insiste non solo qui a Pistoia ma da tante altre parti, non solo della Toscana ma dell'Italia. Questione di ore riferisce Don Biancalani e tutto sarà formalizzato? Sì, viene formalizzato martedì prossimo, martedì popericcio alla presenza del Presidente della Regione Rossi e noi Caritas firmeremo questo diciamo protocollo di intesa con la Regione Toscana, ASL in particolare. Dunque cosa succederà in futuro a Vico Faro? Qui in parrocchia quindi inizieremo a, una volta conosciuti i locali dove ragazzi inizieremo un lavoro di individuazione delle persone adatte per stare in questi locali e quindi lentamente, insomma, in realtà dovrebbe essere una cosa piuttosto spedita, verranno indirizzati in queste nuove strutture. Chiaramente avendo ben massima attenzione là il lavoro di rendere la Chiesa, che è comunque sempre soffroibile, la Chiesa di Vico Faro totalmente ecco, priva diciamo, di questa presenza di ragazzi. Andiamo a starci accanto perché vieni a viverci giorno a giorno.